Cosa è quello l'epatica C? Ma magari, magari è una cosa molto peggio chiunque non si è accorto chiunque non ti conosce, è sempre normale non è questo il più ordinario i sintomi che non si raccontano non si racconta 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 il nonno il cositino il cositino il cositino è un cosito la rumò la monostica la rumorostica la網 non si racconta gli sbagli non si racconta non si racconta sai che sta a tenere? c'è na ma c'è niente bui, scuola come si chiama quel pino lì che lavora o è il cameraman vieni qua senti che ti andranno a fare una cosa seria una volta tanto senta lei mi hanno detto a voce di corridolo cioè voglio dire che lei è un paio di famiglia cioè che ha un bambino, una moglie, un lavoro tutto uno sbattimento un sacco di ore al giorno ecco noi vorremmo sapere cosa si prova cioè lei è soddisfatto di tutte le cose che ha ottenuto cioè voglio dire il bilancio, il positivo e il negativo non è in me cioè ci dica cosa pensa della sua vita è soddisfatto? guardi in camera pirrone hai capito? sono talmente sconvolti dalla loro vita che non sanno nemmeno più rispondere non sanno nemmeno più loro cosa cazzo gli succede in quel cervello marcio lì lo vedi? guarda guardalo lì un pesce perso un avocado guardalo lì si diciamo lo stesso adesso che non ci chiamano è diventato una chitarra con quattro come si chiama? no no via via queste cose personali ma che dopo barba usi? mmm come sei profumato ma sei bellissimo andiamo in galera? vieni a fare un giro sulla mia moto niente purtroppo non risponde nessun riflesso senti che musica questa roba qui tutta la sola balla, balla, baila guapo baila guapo super giovane super giovane super giovane ma fa la luce dossa? ma caprice 3 6 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 7 7 8 7 8 7 8 8 8 9 8 9 11 12 12 13 13 13